Nooo Ma è già iniziata sta partita Aspetta Andiamola a riprendere Facciamo la differenza Facciamo la differenza Il campo di immortalità si è esaurito Misura tattico attivato Samo V Ecco la cura A chi servono cure? Peccato Eleviamoci e combattiamo E' stato un colpo fatale Ho bisogno di cure Capito Te la caverai Bob! Fa qualcosa! Vivo e in gran forno Angganciate Ho bisogno di ricaricare Amma mia Amma mia Oh! Scatena la tua forza interiore Non odiatemi per il mio successo Va meglio? Oh! Oh! Attenzione siamo in minoranza Non farvi più vedere Ora mi vedi Ora no Attenzione a ore 6 Tampo di immortalità posizionato Ti metto i sesti Lasciate che vi mostri come si fa Non hai perso il tuo tocco Ce n'è uno Sto ricaricando Restatevi Fateli secchi Si va solo Me l'hai fatta davvero Beccato Mi sono addosso Stammi Il nostro lavoro non è ancora Venite a farvi curare Sono l'intervento Nemico qui Mi stavi ammaiando Togliete loro ogni cosa Forza qui dentro Ai 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 Non ce ne sono riuscire a salvarlo Dentro Nel campo di immortalità Devo ricaricare Nel ice cream Dietro di te Ma per saltare Non cederà No I miei ci si riprovano Mi nutrirò Liberare la zona No Ti aiuto ad alzarti Entrate nel campo La morte non può fermare Gli eroi Mamma mia Full focus Regano Riesco a fermarmi Troppo golosa La situa Perca miseria Questa è brutta Eh vabbè Doveva finire prima o poi Forse no Non c'è Sono più di noi giustizia della valchiria for sua vita mea per ora si sale mancano 30 secondi misure tattico attivato non parla ma tra i arda e la fa recuperare al proprio team con un 24 4 0 con il baptista non ne ha per nessuno anzi per tutti ma la migliorazione partita se la prende che va armare col cappello di paia ne fa uno fa il secondo smissa un pochino e poi fa il terzo con la granata prima di poco dopo averci rimesso la vita let's go let's go pa da pa pa le Grazie per la visione!